Ciao a tutti, sono Dario Masella, lo chef di Restopio Lombardia. Oggi vi presentiamo dei pancake dell'azienda Etna. Sono semplicissimi da fare, basta passarli nel microonde per un paio di minuti. Adesso andiamo a vedere i nostri pancake in microonde. Accendiamo. Ok, i nostri pancake sono pronti, andiamo a prenderli. Eccoli qua, vedete? Sono belli soffici, morbidissimi. Andiamo a posizionarli sul piatto. A questo punto andiamo a decorarli con della panna spray. Andiamo a mettere del Rides, che è stato in precedenza lavato. e del topping di cioccolato. Ecco qua, il nostro pancake è pronto per essere servito. E vi lascio un saluto da Dario Masella, chef di Restopio Lombardia. Ciao a tutti.